Le aspettative della filiera in una filiera che fa EDI da circa 20 anni sono quella di coniugare nuove regole diciamo così nuove procedure richieste appunto da questo adempimento normativo con quello che è un processo virtuoso già in essere e quindi noi siamo dal punto di vista del materiale elettrico illuminazione una situazione un po' diversa dalla maggior parte delle aziende abbiamo dei documenti e degli standard consolidati che partono dal listino fino alla fattura aggiungere il documento fattura significa proprio coniugare delle regole con un processo operativo che è ormai virtuoso e che ha portato ad un risparmio di circa 49 euro per ogni ciclo d'ordine Grazie